La tradizione dell'antica interna in modalità cromatica... ...e sono stati accompagnati a Pagani da un'allieva del nostro territorio e del professor Vitale. Padre Paolo Saturno si è intrattenuto con l'insegnante dell'Università di Musicologia di Iena, Helen Gaia. Noi siamo venuti qui perché dapprima vogliamo conoscere questo centro degli studi... ...che combina la teologia da un lato, l'interpretazione e la missione della teologia da un altro lato... ...e la musica da un terzo lato. E c'è anche una persona che ci attirava per qui... ...e questa è la mia dottorante Giuseppina Crescenzo... ...che proprio è una ex allieva dal professor Saturno o dal professor Vitale. Lei è venuta da noi per studiare con noi, fare il dottorato di ricerca. Sant'Alfonso soprattutto è conosciuto a causa di questo ordine dei Redentoristi, no? Però noi veniamo dalla Germania centrale... ...e come lei potrebbe immaginarsi... ...Sant'Alfonso è per pochi conosciuto... ...a causa della tradizione della Germania centrale... ...che è una tradizione da prima luterana e dal secondo ateista... ...perché avevamo la Germania dell'Est... ...e questo vuol dire che proprio ci sono... ...c'è la diaspora della Chiesa Cattolica... ...lì c'è Alfonso Maria degli Guori per esempio a Heiligenstadt... ...però grossomodo è più noto nella Germania... ...del sud e meridionale e anche nella Germania dell'Ovest... ...dove c'è davvero un nucleo molto denso della Chiesa Cattolica... ...però la Germania centrale è un po' innocente... ...forse qualcosa per la teologia moralis, no? ...in un certo senso. C'è questo interesse alla cantata sacra... ...io sono stato il primo che non solo ha studiato... ...ecco qui, e qui c'è tutto un... ...il monocordo... ...c'è tutto un saggio mio qui su questo tema... ...e sono stato il primo, non in Italia... ...ma in tutta la cultura musicale mondiale... ...a non solo parlarne... ...ma a incidere queste cose... ...ecco perché è venuto qui... ...perché Sant'Alfonso ha creato il presupposto... ...per lo studio della cantata... ...e questo è il primo punto... ...il secondo punto, Sant'Alfonso ha scritto le canzoncine... ...ancora oggi queste canzoncine non sono studiate... ...noi siamo i primi e allora loro sono venuti qui... ...perché? ...per capire come Vitale ha ripreso lo stesso discorso... ...diciamo delle cantate di Bach... ...come Bach ha scritto le cantate sacre... ...prendendo i temi popolari, i corali che cantavano nelle chiese... ...e li ha inseriti nelle sue grandi opere... ...così ha fatto Vitale con le canzoncine di Sant'Alfonso. Consigenti telle le fondate... ...che questo consente non ti s 9가지... ... fearless di sostentinho... ...che questa cosa?